L'antica tessitura Busatti, che si trova ad Anghiari in Valtiberina, è finalista in un concorso mondiale. Sono cinque in tutto il mondo le aziende tra le eccellenze dell'artigianato. Busatti è stata inserita tra i cinque finalisti nell'ambito del riconoscimento La Famiglia e Sostenibilità 2022, organizzata dalla Primum Famiglie Vini, associazione nata nel 1991, composta dalle 12 famiglie europee maggiori produttrici al mondo. Ogni anno viene assegnato un premio da 100.000 euro ad un'azienda a conduzione familiare nel mondo dell'artigianato. Noi cerchiamo di avere, ok, come si dice, le radici ben piantate, profonde perché non gelino, ma allo stesso tempo dobbiamo essere presenti nel mondo di oggi. Quindi noi puntiamo tantissimo sul digitale, abbiamo collaborazioni importanti in questo ambito, soprattutto nei social media, cerchiamo di offrire lo stesso prodotto con le caratteristiche con le quali il cliente lo desidera oggi, cioè una consegna comunque a casa, rapida, veloce, e la possibilità di restituire se eventualmente qualcosa non fosse adeguato, sempre però mantenendo un rapporto molto stretto con il cliente. Non vederlo solo come una risorsa, ma come un qualcuno che ti accompagna nel corso della tua storia. Il premio mira dunque alla valorizzazione, alla tutela del lavoro artigianale, testa, cuore e mani che si fondono in un prodotto, in questo caso made in Italy. Il momento non è facile per nessuno, confessa Sassolini, ma l'anno che si è appena concluso è stato positivo. Un momento difficile per l'artigianato, anche per le problematiche relative attuali, sia il Covid, quindi l'impossibilità degli spostamenti, di poter godere dei prodotti in senso diretto e fisico, sia anche quella recentissima delle bollette. Problematiche importanti e molto difficili da gestire. Devo essere onesto, per noi l'anno nuovo, questo 2022, è partito molto bene, abbiamo effettuato due fiere negli Stati Uniti che hanno avuto una bella risposta. Quelle purtroppo europee, alcune sono state cancellate, penso ad Ambiente Francoforte, che è la più importante fiera dell'arredamento mondiale, siamo contenti e siamo anche abbastanza in grado di gestire l'aumento, perché uno dei nostri stabilimenti, che è forse quello più importante a livello produttivo, che è quello di San Giustino Umbro, è comunque completamente coperto dal fotovoltaico. Avevamo fatto una riconversione elettrica già l'anno scorso, anche per tutto l'impianto di riscaldamenti, quindi grazie al fotovoltaico abbiamo un pochino meglio gestito questi incontrollati aumenti. Però allo stesso tempo la problematica, diciamo, che persiste. A livello anche lavorativo siamo partiti bene, abbiamo acquisito due nuove collaboratrici e quindi diciamo che al momento siamo in attesa, però le prospettive, se non c'è un intervento del governo, una collaborazione delle amministrazioni, sono molto incerte. Aziende come la vostra, che come diceva prima, usano testa, cuore, ma soprattutto anche le mani, sono sempre più rare. Forse la scelta è caduta su di voi anche per questo? Sì, questo è vero, effettivamente l'attenzione all'artigianato c'è sempre meno, non per rincarare il discorso sulle bollette, ma va anche detto che una piccola attività paga quattro volte più l'energia di un'azienda grande, perché ovviamente meno consumi più paghi, è una politica tutta italiana che dopo su queste cose ovviamente giudicherà chi di dovere. Però effettivamente sì, questa attenzione verso noi c'è stata, c'è stata perché siamo realmente artigiani, produciamo realmente nel nostro territorio, abbiamo sempre avuto anche una collaborazione stretta col territorio che ci rappresenta, che ci ha permesso di fiorire la nostra attività nel corso dei secoli. Di conseguenza sì, forse sono stati questi gli elementi che un pochino hanno colto l'attenzione di queste importanti aziende del vino.